ciao a tutti i follettini e follettine ben tornati in questo nuovissimo videocambio di sharon allora per questo videocambio ho scelto questo vestitino carinissimo che ho preso un euro da wishy molto molto fresco poi queste scarpette di scarlet che ne vanno benissimo perché le lascerò queste calzettine visto che non ho altro il suo ciuccio con cui è arrivata con l'orsetto e le metterò in testa sulla testolina questa farfallina e resina calamitata che userò come fiocchetto che ho fatto io e daremo il latte con il nuovo biberon che mi hanno regalato dalla mia lista amazon le bagneremo i capelli con questa lozione per capelli e la spazzoleremo con la sua spazzola iniziamo togliendogli il ciuccio questo qui facciamo così togliamo questo ciuccio vedete così e mettiamo quest'altro dentro ecco qui così dopo possiamo rimetterglielo ne togliamo la fascettina vedete ed il vestitino ecco qui volevo ricordarvi che questo è un role play fatto solo per intrattenere il pubblico che mi segue non faccio queste cose tutti i giorni non è che mi sveglio la mattina dico moglie cambio il vestitino assolutamente no non lo farei mai perché sono bambole sono video solo fatti per intrattenere il pubblico che mi segue quindi non cominciate a scrivere nei commenti roba del tipo ama sei nato qui e lì perché l'ho appena detto aspettate lo togliamo un attimo le calze che se non riusciamo a toglierle il pantalone povera piccina per chi non sapesse cosa sono i role play può andare su internet e ne trova un casino anche su youtube trovate un casino di questi video role play di tutti i tipi e mettiamo il suo vestitino nuovo e 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 ecco qui così allacciamo il vestitino per dietro ecco e va un po' grandetto ma non fa niente usate il telefono fateci caso ho detto rispondi dai che la suoneria mi stacca i tifani ora eccola qui qui vuoi rispondere qui rimettiamo le calzettine rispondiii trin 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 che quella è il cellulare rispondi questa è la mia suoneria che mi ha fatto la mia carissima amica con la sua voce che adoro tra l'altro non la cambio mai anche se cambio telefono metto sempre questa suoneria perché io la amo veramente ecco qui ecco qui la pettiniamo la piccina dove sta la spazzolina eccola qui le mettiamo ecco qui adesso le diamo il latte oh è cascata vediamo il lattuccio col suo biberon è ricascata la farfallina ma non fa nulla ecco qui adesso le faremo fare il rotino ecco qui ecco qui la piccina è pronta le mettiamo il suo ciuccio aspettate ecco qui ecco qui che dire folettine e folettine se questo video vi è piaciuto mettete un gran mi piace iscrivetevi al mio canale condividete i miei video su tutti i vostri social con tutti i vostri amici e amiche iscrivetevi nella pagina facebook folettina creation per chi volesse contattarmi tramite mail per un saluto o qualcosa la mia email maria grazia.catalano seguitemi anche su instagram folettina-creation io vi mando un grosso bacione alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.